Vedo che è stata partecipata, siamo molto contenti della partecipazione di tutti i cittadini. Vuol dire che finalmente qualcosa si sta muovendo, che non siamo supini a quello che ci viene propinato dal governo. Sicuramente questa sarà la prima di altre manifestazioni. Cerchiamo di non disperdere quello che siamo riusciti a ottenere oggi. Continuiamo a farci sentire, perché se lo facciamo solo una volta non serve a niente. Continuiamo ad andare avanti nella nostra protesta. Cercheremo di organizzare altre manifestazioni come queste. Seguiteci su Mascherine Tricolori, che avremo tutte le indicazioni per andare avanti con questa protesta. Se andiamo avanti tutti insieme, sarà una piccola goccia nel mare, ma sicuramente servirà per farci sentire da quelli che non vogliono sentire. Buonasera a tutti. Viva l'Italia!